Mercoledì si festeggia la solennità di San Martino, patrono della città di Belluno. Una ricorrenza molto sentita dalla popolazione che quest'anno si celebrerà in tono minore a causa della pandemia e delle restrizioni annesse. Annullate le manifestazioni collaterali come l'ex tempore di scultura su legno o la consegna del premio San Martino, il calore attorno a questa speciale festa resta però intatto. Le restrizioni le conosciamo, sono quelle necessarie, l'igienizzazione che si cerca non solo personale ma anche dei luoghi, ad esempio i banchi eccetera. Poi la mascherina e il distanziamento di almeno un metro, ma la celebrazione si svolge normalmente, troveranno posto in 170 secondo i posti che sono stati fissati, sono posti misurati bene. La figura di San Martino si fortifica e il suo esempio risplende in questi tempi di difficoltà, mai come ora è chiesto all'uomo di solidarizzare con il prossimo, distante con il corpo ma vicino con il cuore. Martino dice in un contesto difficile anche di battaglie locali, di prevaricazioni di potere, lui propone la logica della carità. La carità di Martino è una testimonianza di vita, è una scelta di condivisione dove volutamente, liberamente, si dà l'importanza all'altro, quindi alla società come condivisione di valori, di ideali e di anche vita concreta. Io spero, penso che, avendo già appreso, imparato ad attraversare il momento un po' più traumatico del lockdown, questo momento qui ci permetta di vedere la possibilità della vivibilità, è una prova generale di come sappiamo far fronte alle difficoltà della vita. La celebrazione presieduta dal Vescovo sarà trasmessa in diretta dalla Cattedrale su Telebelluno a partire dalle ore 10.